Massimo M ha condiviso il post di Francesca S su Facebook. 3 settembre 2016 Francesca S il PD non vuole Gigi D'Alessio alla festa dell'unità perché è coinvolto in vicende poco limpide. Manco se mi fanno il solletico arrivo a ridere di gusto come sto facendo ora. Mi riprendo giusto per sottolineare che. Se le sue vicende sono poco limpide, quelle del vostro partito sono proprio putride. Mazzà che faccia tosta!